Attenzione amici, qui cominciano già subito, immediatamente, le cose hot, possiamo dire, al grande fratello VIP. Patrizia Rossetti, lei super protagonista, e nella puntata d'esordio del reality show di Alfonso Signorini anche la presentazione e l'ingresso della mitica regina delle televendite che ha deciso quindi di festeggiare i 40 anni di carriera televisiva dove, dentro la casa di Cinecittà, mi pare giusto. Spigliata, frizzante e tutta di rosso vestita, Patrizia Rossetti, rosso, si è fatta subito notare da quelli che saranno poi i coinquilini nei prossimi mesi, rivelando anche alcuni aspetti molto intimi, ma molto molto intimi, della sua vita. Finita la diretta si è infatti unita al gruppo dei ragazzi più giovani, con loro poi ha scherzato un po' qua, un po' là, e brindato per ore. Che, insomma, brindare per ore non è che faccia bene alla salute. Comunque, la conduttrice ha dichiarato di essere single, anche se non le mancano i corteggiatori, per carità de Deo. E rispondendo a Ginevra Lamborghini sul fatto di russare o meno ha rivelato e ha detto, ehi, sono quattro anni che non batto chiodo, cavolo, e nemmeno dormo con nessuno. Cioè, sarei anche aperta, ma ormai è difficile. Se è destino, troverò io, e penso, beh, in questa maniera. Sono quattro anni che non trombo. La verità, ragazzi, è la verità. Da quando mi sono divorziata non ho nessuno. Questo ha ribadito, quindi a chiare lettere ha detto sì, cosa gli manca, più o meno. Poi Patrizia Rossetti si è sfogata con Luca Salatino e Antonino Spinalbese. All'ex Uomini e Donne e all'ex di Belen ha spiegato loro perché non riesce ad avere più frequentazioni. Mi sono chiusa da quattro anni. Sì, le occasioni in realtà ce l'ho. Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? Tanti! Eppure, no, sono davvero chiusa. Io ora sono più esigente. Alla mia età credo che sia normale. Parto dal presupposto che preferisco star da sola che accontentarmi e non voglio un rapporto tanto per. Ho bisogno di essere amata, coccolata, corteggiata. E come dargli torto, ragazzi? Come facciamo a dargli torto? Una donna deve essere corteggiata, è così. Ma continua, dice. Poi nel nostro ambiente non è facile. Ho amiche che si divertono su Tinder. Io non potrei mai farlo perché sono la Rossetti. Mi devo innamorare e sentire le farfalle nello stomaco. Non posso andare sulle app. Ha spiegato così nella prima notte del grande fratello Vib. Ma queste notizie si danno di notte perché sono notizie particolari. E ancora. L'ultima volta ho avuto un corteggiatore di 30 anni che mi diceva a me non me frega niente dell'età, ma a me mi interessa perché potevo essere sua mamma. Lui voleva portarmi a letto, ma poi a me cosa restava? A me non basta una nottata e via. Voglio anche dell'altro. Io non riesco per questo ad accettare la corte dei trentenni, capitemi, vi prego, capitemi. Ma secondo voi che uno che ha la mia età, ma cosa può cercare? E allora è inutile. Io quel non lo voglio. Signori, io penso che lei nel suo discorso sia stata abbastanza chiara di quello che vuole, di quello che si aspetta, ma soprattutto vedremo cosa succederà all'interno della casa, visto che sta così in astinenza, sai com'è? Non si sa mai. Questo è tutto per quanto riguarda questo video, se volete lasciate un pollice in su di supporto per il canale, io vi aspetto alla prossima, sempre qui mi raccomando, su Pausa Caffè.